Signori miei, benvenuti ben tornati su Bioshock Infinite Uno dei più bei giochi per ora giocati Nel 2019, 2020, anzi 2020 per ora Però è iniziato l'anno Non ho fatto neanche la top io, però non la farò quest'anno, vediamo un po' Cerchiamo di valutare bene Si vabbè Ok Ok, ok Perché non mi danno, non mi danno le munizioni per la metalliatrice Non è giusto perché la metalliatrice è la medesima È la stessa, non è una meccanica giusta, però Dobbiamo salire con quell'ascensore, scommetto che va all'ufficio di Fink Ok Con questo ascensore noi saliamo Un po' di soldini E così sia signori Scrivetevi sotto nei commenti come sta vedendo questo gioco qua, questa serie E se il nuovo modo di editing, cioè un video un po' più breve in full hd 60 frame Guarda lì cosa c'è Tutti i plasmidi È pieno No vabbè Sono fatti in serie Pure questi Vabbè, questi poteva essere Possibile Che fossero fatti in serie, ma I plasmidi, no? Non avevo idea Sono fatti l'uno per l'altro Non è vero Chi? La Fitzroy e Comstock Lei è bellissima, eh Lei è bellissima Devo dire comunque questo Bioshock ha cambiato veramente tantissimo È cambiato veramente tantissimo anche perché ha eliminato completamente la trama delle sorelline Completamente la trama della città sott'acqua Va messo quella in aria Che a me piace un po' di più sinceramente Anche se l'ambientazione horror dei 1 e 2 è molto migliore Eh, ho spostato mille anni La ammazziamo? Sono preoccupato Ah, ma adesso ci ammazzano Ma scusami Sì Eh, sono morto però Mannaggia la patatina, guarda Costano un casino Insieme a delle munizioni Uh, ne abbiamo un bordello di soldi adesso 500 Sì Dammi va Dammi va Qui abbiamo 1200 Potenziamento danno Io tanto uso sempre i soliti Sempre i soliti Sempre i soliti 50% Deve 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 Mi piacerebbe Aumento del 25% Il danno della pistola Lo mettiamo E compriamo anche questo E abbiamo fullato completamente tutte le armi Adesso diventa interessante la storia Ora non so Siamo full di tutto I soldi li prendiamo lo stesso Perché ci interessano Un sacco di soldoni 1208 Che cos'è? Attenzione Cioè quasi in endgame Ci danno nuovi poteri Oh Bellissimo Che effetti ragazzi Allora io direi di tenerci Questo qua e questo qua Abbiamo cogliato una barca di soldi qui E so che devo andare di là Però Dove sta andando? Dove sta andando questa pazza? E' un fizzeroio Uccidete gli impostori E poi bruciate i corpi Ti sparo Uccendi aria Stai attento E' fuoco purifica Wow wow Ma io da là non ci arrivo mica Bomba Arrivederci buon lavoro Arrivederci buon lavoro Ok Beh questo potere E' una bestia Via via La casa mia Non so dove sia andato mai Arrivederci La bestia Immonde Andiamoci Vai alla fabbrica Mi hai stancato un pedo eh Giù Giù tutti Arrivederci buon lavoro Certo così non facciamo Surtur So V More Certo 5 6 Certo Certo Questo Certo handmade vienti Il Ce Il Me Il 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 screws Si Il 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 non so dove si è andato Gesù Gesù calma un attimo calma che ho da fare sali 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 a volte risulta scorte preziose parapapero è qua vicino ispirare tesla vediamo un po' non so dove sia come è così double edge 7 guai eh no il bambino no se ammazza il bambino è finita per lei se ammazza il bambino facciamo casino è facile per lei dai elisabeth spingo dottoressa questo il tuo movimento è questo daisi questo è quello che va fatto vedi i fondatori sono come le erbacce se li tagli e basta ricrescono se vuoi liberarti delle erbacce devi estirparle con tutte le radici è l'unico modo per essere sicuri l'ha uccisa l'ha uccisa lei no che cosa hai fatto lì elisabeth hai fatto bene tutta via le forbici ce le ha attaccate al braccio sono buggate posso aumentare questo? questo al massimo allora faccio questo apri 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 no elisabeth perchè corre sempre questa pazza corre sempre questa pazza diregibile posso andare prima via? elisabeth perchè non esci semplicemente di là? va bene dove andiamo stavolta? a new york? eh si perchè noi abbiamo sempre il nostro debito da saldare anche se io mi sono affezionato che è successo elisabeth? sei diventato una zazzona? è tutto ciò che avevano ascolta come hai fatto? come ho fatto cosa? a dimenticare come fai a cancellare le cose che hai fatto? non puoi impari solo a conviverci doppiatori i numeri 1 eh se devo scegliere io no ancora lui no guarda eh cambia rotta boh non andremo mai né a parigi né a new york siamo sotto siamo tornati a posto siamo caduti giù col dirigibile emporia welcome to emporia elisabeth e sony hanno una specie di legame se potessi ucciderlo lei me lo lascierebbe fare questo è un domandone tutto nello ho visto la pistola ancora loro due queste qua sono pazze le note erano corrette lo strumento non lo era servono entrambi per avere la sua attenzione ma se sai come cantare per lui lui vi porterà dove dovete andare ahhh hai capito attenzione ecco perchè siamo a songboard dov'è ma certo almeno hanno lasciato il pianoforte e se provassimo a suonarlo non c'è niente qua non c'è niente qua se vogliamo trovarlo dovremmo cominciare da la ok dove vanno queste persone ovunque non ci siano i vox populi allora io signore direi che l'appuntamento di oggi è finito qui ci vediamo al prossimo video a tutti